Wahey Kooch, ben ritrovati alla vostra! Andronin91 su Yokai Watch 3 La missione che andremo a fare oggi è la missione di Malvimini che si attiva parlando con questo grilletto qui Gli scherzetti di Nego Taio stanno infastidendo molto grillorbice, bisogna dare una lezione a quell'uccellaccio E allora andiamo, accettiamo questa missione di Corsa della Vecchia Villa, vediamo un po' che ci dice grillorbice Io ciao, benvenuto all'Agenzia Conan, investigatori del mistero Right, il nostro cliente è lo Yokai Grillorbice Sì, sono conosciuto come il carismatico parrucchiere numero uno dello Yokai World Ma ho un problema, ultimamente Nego Taio si diverte a farmi degli scherzi Scherzi? Per esempio taglio i poster appesi nel mio salone Ehm, ma è terribile Taglio i capelli delle teste per le esercitazioni Buona volta avrete persi con la coda di un cliente Wow, questo non è uno scherzo Già, è terribile Anche quello di coltaio di capelli che hai è merito di Nego Taio? No, questo stile è una mia opera Oh, davvero? Diamine Luna, penso prima di aprire quella fogna Oh, calma Cavoli, c'è un'altra pesante Allora, qual è il tuo incarico? Voglio chiederti una bella lezione al Nego Taio Si trova nella vecchia villa a campo fiorito Ma non posso andare lì di persona perché ho tantissimi appuntamenti a salone Ok, capito, ci pensiamo noi Daremo a quel Nego Taio una lezione memorabile Davvero? Bene allora Andiamo alla vecchia villa Stavo giusto pensando Ma come avrebbero sfruttato questa villa In questo gioco E a quanto pare c'è Malvimini C'è anche nel primo gioco Malvimini Ma non l'ho mai trovato Anche perché il primo gioco è un po' che non lo tocco Il primo Yo-Kai Wachi Entriamo Aspetta, c'è sempre l'oggetto Germano di bambù Va bene Anche perché è tutto quanto chiuso È chiuso Forse Nego Taio non è in casa Torniamo più tardi Well, non abbiamo molta scelta What? Ah, eccolo Ehi Luna, eccolo Nego Taio Nego Taio, sei d'arresto E perché non ho fatto niente E invece sì Non ti lascerò negare tutti i crimini che hai commesso contro qui l'arbice Ah, devo passare a piano B? Non sono stato io Non sono stato io Ma invece sì Come on, non farlo scappare Rincorrilo Ehi, penne in alto Quanto? Vediamo un po' cosa c'è qui dietro Prima di proseguire Un pezzo Moneta 5 stelle Non che mi sia di grande utilità Bene, entriamo ora Ah, quanto odio questa villa Ma aspetta Fermi, 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 fermi Cioè, entriamo E siamo direttamente qui Ah, ecco Ora si spiega Beh, non capivo Oh, rompiamo tutto E uno E due E tre E Vediamo un po' che c'è qui Baffetti Mettila dietro la schiena Non so di cosa tu stia parlando Ti ho solo chiesto di mettere le mani dietro la schiena Non Di 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 Vediamo un po' Quei che c'è Sempre oggetti Ovviamente gialli Quelli gialli sono Oh Inverti gemme Dovrebbe essere Un oggetto da fusione Credo Non ne sono particolarmente sicuro Ma potrebbe Aspetta Questo Questo Yokai Chi era? Fermo Lì dove sei Ho detto Non sai cosa tu stia parlando Stia parlando Vabbè però Quanto sei ripetitivo Rincorri negotaio Eh sì C'avevo pensato Eh però non passo di qui No no Ah quindi È sceso Eh sì per forza Scendiamo anche noi allora Ah Possiamo andare solo di Qua Di qui E poi di qui Eccolo qua Beccato Questo è per i poster Dessutore di Grillo Orbi c'è Ti ho detto Che non so di cosa tu stia parlando Mi ha attraversato Mi ha attraversato con la spada Mi ha fatto male Cattivo Una bamboletta d'argento Che rivendendola Si fanno i soldoni Dove è andato Eccolo di qua Apriamo la porta Ehi Eccola Ehi Sei stato a farlo a brandelli no? Non so nulla No non è vero Ma perché devi dire le bugie? Ma come Come è scappato Dilla? Non si poteva Oh E senza originian Questa servirà per originian Per far Farto quanto D'allenamento In una volta sola Ora Si va di qua Si viene qui E si esce qui Giusto? Perfetto Però c'è l'oggetto Qui grazie Eh E sfera grande Vorremmo dire A chi non farebbe piacere Un'espera grande Allora Non è anche Tanto di capire Le teste per le esercitazioni Ti dico di no E' un po' ripetitiva Sta cosa Vediamo che c'è qui Oh Ok Mi chiedo per cosa sia Se è per un oggetto Una fusione Oppure no Attenzione Blu Chiave Appartamento B204 Aspetta No no Quello è andato Qui Devo scendere qui In effetti Avrei dovuto fare Questa missione Molto prima Però la faccio ora Perché prima Non l'ho fatta Allora Finalmente possiamo Combatterci Confessa Ti ho detto Che non ho tagliato Niente Devo sbarzarmi Di voi colle cattive Tatino Ma tu sei contro Chi stai combattendo Vai va Beh insomma però Sembra abbastanza resistente Vediamo un po' Quanto dura Cambiamo anche Yotai Così almeno Cibo Perfetto Tempura Ma non me lo fa dare Anche Anche Volessi Anche Volessi Non me lo fa dare Cibo Quindi Dovrà ritornarci Per lui 98 punti Si spreca Eh no Non ti lascio scappare Di nuovo Questo Ho deciso Che non mi farò Catturare da te Ehi Ha lasciato cadere qualcosa Chiave Chiave Babbo 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 Non si dice babbo Quei tipi mi stanno minacciando Mio diletto Negotaio Quietati Me ne occupo io Gente Ditemi State cercando Mio figlio Figlio Esattamente Sono Malvimini Il signore di questa dimora Negotaio È mio pargolo Sul sé Non permetterà Degli sconosciuti L'intimo Direi mio figlio Ehm Luna Che si fa? Beh Fa parte del lavoro Ci tocca combattere In guardia Felloni Chi ho Sa prendere in giro Mio figlio Me ne occupo io Preparati Manigoldo Manigoldo del cancro? Sì Sei in seia De los canvas Manigoldo del cancro È un bel personaggio Oh certo che combattiamo Non ti permetterò Di soverchiare Il mio figlio L'umana Non l'abbiamo Soverchiato Silenzio Non tornerò Le tue scuse Vedere il mio pargolo Tornare angustiato Alla magione È ragione sufficiente Per punirvi Oh ma come parla bene Brutta sconigliata Ti pare il momento Di farti complimenti? Arriva Fagli a fettine Tranquillo figliolo Il babbo Li vincerà Per te In guardia Screanzati Ah ma il vimini Vuole combattere Non ricordo Di preciso L'utilità Di quei due Cosi lì In vimini Tra l'altro Sono così Una battuta Allora Lo facciamo fuori Con lo blaster Tanto Era giusto Per diletto Fare questa missione Non è Per altro Tanto per Dilettarmi Un pochino Se però Lo beccassi Sarebbe meglio Non gli ho fatto nulla? Va bene allora Se proprio ci tieni Fammi ricaricare M Mi sembra che si sposti Ok Cioè Stiamo facendo di più Con gli attacchi Che non con La pistola Molto di più Pronti? Vai Cento colpi Di lancia Dai su Una mossa Io ero pronto A farlo fuori Con la pistola Invece Danza senza fine Sì Tra l'ho io Ma danza senza fine Danza Vediamo un po' Che fa No Proprio no Ah quindi Quei cosi Gli curano la vita Oltre ad attaccarmi Va bene Va bene Se non ci pensate A voi ci pensa Nihilo Quindi Quindi Visce Fascino Ciao Ciao Incoming Eccolo là Ciao Vediamo se parla ancora Forpito Il signore Attacco Brandelli poster Del salone di grillorbice Non è così Non ne so niente Hai tagliato i capelli Delle teste Per l'esercitazione Di grillorbice Non è vero Cip Quali teste E scometto che c'è che c'è che c'è Riang Non tagliato i capelli Di grillorbice Bugie Quello non l'ho fatto io Cip Quello non l'hai fatto tu eh Allora confessi tutto il resto No Non significa Non significa cosa Avanti regotaio I giochi sono finiti Ne ho abbastanza Delle tue monellerie So che sei stato tu Ti condanno A non meno di cento Corpi d'ala Ma Ma Sì Ce l'abbiamo fatta Ma Chissà Comunque Un altro caso chiuso Troppo semplice Con una Quando Combattetevi Con caso chiuso Finito Lì Mi piace questo lavoro Spada cicala Che ovviamente Andrà bene Solo per Per cicalabile E per Cicalamo Coscia di pollo È un po' strano Mi dispiace di averti disturbato Le mie scuse Porgerò le mie scuse Anche Grillo Orbice Quindi Ora voi rimanete qui Così tranquilli Perfetto E possiamo uscire Dalla vecchia villa In questa maniera E piove ancora Allora in modo Kuj Questo video Termina qui Io come sempre Vi ringrazio per averlo seguito Vi ricordo Ovviamente In descrizione Il link Per Instagram E se ancora Non siete iscritti Al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Dove inizieremo Finalmente Le missioni Blaster T Bye 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 bye